Non è stato facile comporre le esigenze di due artiste, madre e figlia, ormai affermate negli ambienti artistici non solo lodigiani. Lo ha riconosciuto Mario Quadraroli presentando la mostra a quattro mani di Loredana De Lorenzi e Elena Moriello, allestita nelle sale di BPL Le Arte a Lodi. Dopo l'introduzione di Paola Negrini a nome della Fondazione Banca Popolare è stato Marco Zaninelli, presidente dell'Associazione Culturale Il Dado, che si occupa di autismo, a ricordare il senso di una mostra pensata soprattutto come ringraziamento nei confronti delle due artiste per il loro impegno solidale. A Giovanni Amoriello, infine, il compito di dare lettura alle note della curatrice della mostra, Matilde Romiti, intitolata, non a caso, Orizzonti infiniti, orizzonti convergenti, le prospettive che hanno mosso Loredana De Lorenzi ed Elena Moriello nella loro pluriforme esperienza artistica. Poi, porte aperte alla mostra visitabile fino a domenica 15 aprile. Eccone un assaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.